Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo video qui su Boboach, io sono Giovanni e questo dietro di me, come sempre, è Tenerife. Siamo qui per un unboxing nuovo, un paio di giorni fa ci è arrivato un ulteriore al Manicolet, prestato, giuntamente prestato da loro. E niente, vogliamo farvelo vedere, un ruolo bellissimo, un pilot davvero spettacolare. Amici, godetevi l'unboxing, se il video vi piace fate like, se non siete iscritti iscrivetevi al canale e dateci vedere su Instagram, ok? Ciao Perfetto amici, l'emozione è tanta, ho tanta voglia di vedere cosa si ce l'è in questo pacco che ha appena inviato a Manicolet, modello MM2, pilot, svizzero, niente amici, ho voglia di vederlo, quindi lo apro già e non parlo più neanche così tanto. Il brand Manicolet lo conosciamo già, avete già avuto modo di vedere una recensione, se volete vederla, la trovate qui su. E in quel caso era un orologio GMT, questa volta invece siamo di fronte a un orologio pilot, ok? Ok, qui solite cartacce. Ma io ogni volta che... da aprire un pacco, mamma mia che emozione. Qui la scatola, immagino che sarà come l'anteriore unboxing, che qui c'è la scatola e qui dentro c'è l'orologio, quindi amici io vado a colpo sicuro. Mi piace tantissimo il logo, eh? Mi piace tantissimo il logo di Manicolet. Qui possiamo vedere, se non sbaglio, la referenza, esatto la referenza dell'orologio. E questo è il modello in questione, MM2. Vediamo se non sbaglio... eh no, non sbaglio... oh, che figlio, che bello, amici. Madonna. Wow. Bellissimo. Sotto vuoto, eh? Come il prosciutto di qualità. Amici, io apro qui. Vediamo, deve essere molto delicato adesso, eh? Quindi, eh sì, meno male, che coltellino ben affilato, non devo neanche fare sforzo ad aprirlo. Oh, l'hanno impacchettato bene? Mamma mia. Oh, che bello. Niente, qui la referenza. Spugnetta. Ok, vediamo. Che bello, madonna, ragazzi. Che spettacolo. Togliamo, togliamo, vai, veloci. Vedete, vederlo. Che bello. Oh, amici, guardate che quadrante. Ma che spettacolo. Bellissimo. Devo dire che non sono troppo amante dei colori così vivi, magari quest'arancione, però è bello, è bello. Non è troppo il mio stile, io sono più amante nero bianco, colori meno vivaci, però devo dire che questo è bellissimo. Guardate l'effetto, madonna. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Guardate che cassa, che spettacolo. Bellissimo, anche il cinturino. Tipo racing. Bello, togliamo, togliamo questo. Guardate la, l'accuratezza nei dettagli che ha questo brand, è incredibile. Che bello, amici, che bello. Movimento automatico ETA 2824-2. Bellissimo. 10 atmosfere. Petro zaffero. Madonna, amici, che bello. Facciamo una piccola carica. Ancora una vite. Vabbiamo se parte. Oh, è partito, che bello. Guardate che figata, amici. Che bello. Guardate, non vi dolore. Anzi, adesso ho voglia di tenerlo al polso un paio di settimane per fare una bellissima recezione, perché ho tanta voglia di vedere ogni minimo particolare di questo orologio. Vediamo, lo provo al polso e poi vi lascio e me lo godo per bene. Come dettaglio, è uno spettacolo. Guardate. Fighissimo, guardate che dettagli la cassa. Che lavorazione. Madonna. È molto, molto ben fatto. Vedete, invece, vi lascio perché se vi... Anzi, vediamo un po' la cassa. E ha sempre queste casse così belle da vedere, questo brand, che è un peccato non farla vedere qui nella unboxing. Ormai, perché siamo qui. Vediamo un po'. Ui, mosso tutto qui. Un po'. L'ho detto con mani da cinghiare. Ho detto, ma mamma mia, oh. Si delicato. Un po'. Abbiamo... Quante contro scatole abbiamo? Due? Eh sì, due contro scatole. Guardate che... Mamma mia. Qui, tengo il libro. Vicino, istruzioni. I dettagli svizzeri, amici, eh. I dettagli svizzeri. Guardate il logo qui sulla cassa. Questa cassa è bella. Guardate che bellezza. Eh sì. Amici. Niente. Questo è l'unboxing di questo Armani Colette MM2. Adesso io lo terrò al polso un paio di settimane. Vedremo però il contro di questo orologio. E niente a che dirvi. Se vi è piaciuto il video fate like. Se non siete iscritti iscrivetevi al canale. E andateci a vedere su Instagram, ok? Ciao amici. Ciao. Ciao amici.